amici telespettatori una puntata speciale di polifemo uno speciale polifemo dedicato appunto a Federmoda Taranto una nuova realtà una realtà che non è solo come dire qualcosa di fine a se stesso ma ha una valenza importante per la crescita e lo sviluppo del territorio ionico sono quelle iniziative che effettivamente fanno crescere il territorio Taranto vive momenti difficili e non è il caso di piangersi addosso ma è il caso di rimboccarsi le maniche e di dar vita ad iniziative che permettono appunto un certo un certo sviluppo una certa economia salutiamo Mario Raffo neopresidente di Federmoda Taranto alla mia sinistra e alla mia destra il dottor Alberto Mosca vicepresidente esecutivo di commercio Taranto con delega al commercio nonché presidente dell'ente bilaterale del terziario e allora partiamo subito con il presidente Mario Raffo beh è d'obbligo è d'uopo una presentazione di questa nuova realtà di Federmoda Taranto andando proprio a individuare per così dire il dna di questa federazione salve a tutti sono orgoglioso veramente di far parte di questo direttivo con tutti i consiglieri ben 29 colleghi imprenditori e commercianti del territorio di Taranto e provincia abbiamo risposto all'appello abbiamo un abbiamo rivoluzionato quello che il sistema associativo abbiamo un fortissimo senso d'appartenenza e su questo abbiamo cercato di progettare un lavoro che ci accompagnerà per tutto l'autunno inverno andando in ordine per importanza vogliamo evidenziare quello che naturalmente del nostro settore è una piaga purtroppo ormai radicata e che ci auguriamo le istituzioni possano in qualche modo debellare. Dallo studio fatto dall'EUIPO che è un'agenzia della comunità europea che ha sede in Spagna si è calcolato che il danno subito dalla contraffazione e dall'abusivismo porta un danno concreto di 8 miliardi e 600 milioni di euro con una perdita di lavoro purtroppo di 52 mila posti quindi naturalmente anche Taranto è afflitta da questa grande piaga e che noi più volte abbiamo fatto presente alle autorità competenti. Si tratta non solo dunque di un problema di legalità perché ovviamente ogni forma di legalità di illegalità va combattuta con ogni mezzo che appunto la legge prevede ma ovviamente dobbiamo anche considerare i commercianti le categorie che vengono appunto rovinate che ricevono documento dalla contraffazione dall'abusivismo per banalizzare per usare espressioni diciamo più concrete insomma bisogna superare va combattuta questa logica come dire dei dritti e dei fessi il commerciante che paga le tasse che fa sacrifici che fa salti mortali per portare avanti la propria azienda per dar da vivere ai dipendenti commerciante che paga le tasse e poi chi magari impunemente davanti ai negozi davanti alle attività eh come dire mostra no fa la va viene sciorinata eh tutta la la mercanzia appunto eh contraffatta. Prego Mosca. Poi subisce una concorrenza sreale perché è chiaro che chi non paga le tasse chi non paga quelli che sono tutti i balselli che siamo oggi obbligati a pagare può fare quello che vuole. E in effetti dicevamo eh presidente Raffo eh questa è una piaga quella del dell'abusivismo della contraffazione sulla quale Confcommercio già da anni sta eh sostenendo battaglie eh incisive e battaglie che devono vedere coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio forze dell'ordine enti locali e quant'altro. Organizzazioni di categoria come la vostra. Innanzitutto vorrei evidenziare che non è da sottovalutare anche il le problematiche eh che hanno al consumo possano procurare i danni della contraffazione perché non ci dimentichiamo che tutto quello che il mercato legale naturalmente è soggetto a controlli anche controlli di natura qualitativa che naturalmente eh gli altri attori per causa delle necessità virtù naturalmente non sono sottoposti e quindi di conseguenza vogliamo eh ricordare ai consumatori che molto spesso queste merci vengono realizzate con materiale anche nocivo e che per un grave danno alla salute e ci teniamo anche a sottolineare che la legalità non è una discriminazione ma dovrebbe essere una normale routine per tutti coloro che naturalmente entrano in un sistema commerciale ed economico come quello di Taranto soprattutto che ha già tante piaghe da affrontare. Come dicevo poc'anzi ConfCommercio si è schierata contro l'illegalità e eh infatti eh aderito aderisce alla giornata appunto sulla legalità. Abbiamo parlato stiamo parlando di contraffazione da una fase di denuncia ad una fase di proposta. Presidente quale progetto per la contraffazione lei propone? Realmente seguendo la linea guida che ConfCommercio ha già eh messo in campo negli anni passati con il gazzibo della legalità e con quello che tuttora sta succedendo a livello nazionale eh come federazione muda a Taranto abbiamo deciso di fare un upgrade di questo eh di questo documento e quindi ci siamo eh programmati in collaborazione con le associazioni dei consumatori ad hoc feder consumatori e ad consum di organizzare una piccola delegazione che andrà in giro per gli istituti superiori a fare formazione ed informazione sulla gravità e le conseguenze che la contraffazione e l'abusivismo possono recare al naturalmente al tessuto sociale. Siamo certi della partecipazione anche delle forze dell'ordine che daranno naturalmente il loro contributo a quello che poi è questo grande progetto su cui la federazione naturalmente punta moltissimo. Ok e allora prima di riprendere con Mario Raffo perché ne avremo eh da parlare. Parleremo di marketing di Federmoda nonché varie eh iniziative eh a brevissimo a breve e a medio termine eh andiamo dal dottor Alberto Mosca come detto vicepresidente esecutivo di Confcommercio Taranto con delega al commercio e eh presidente dell'ente bilaterale del terziario. È molto importante il momento l'aspetto della formazione. Una formazione che eh come dire ha una sua bipartizione in formazione facoltativa e formazione obbligatoria. Sì grazie. La cosa importante è che grazie ad avere oggi l'ente bilaterale che è uno strumento della Confcommercio riusciamo a puntare moltissimo sulla formazione. La formazione è diventata oggi uno strumento di poter eh a livello aziendale elevarsi leggermente perché essere eh preparati in oggi sui vari campi che possono essere dalla semplice lingua o di quelle che possono essere delle preparazioni dei propri dipendenti significa riuscire a eh emergere leggermente in confronto alla massa. L'ente bilaterale eh come dicevo è uno strumento usato da Confcommercio tutti gli associati all'ente bilaterale possono usufruire di corsi in maniera gratuita sia per quanto riguarda un corso specifico per una categoria o sia per quanto riguarda i corsi obbligatori. Facciamo quindi un primo distinguo. I corsi obbligatori che per legge tutte le attività commerciali devono fare e devono quindi pagare. Questo pagamento viene in realtà eh omesso grazie all'essere associato all'ente bilaterale. L'ente bilaterale oggi essere associati costa pochissimo perché sono eh degli importi che comunque sia sarebbero stati pagati all'Inps. Quindi in un certo senso ciò che viene passato all'Inps si passa all'ente bilaterale che sfrutta questa parte economica per fare i corsi. Passando poi per quello che sono i corsi ehm facoltativi che nello specifico ogni categoria può chiedere all'ente bilaterale praticamente si possono usufruire di progetti che possono andare per esempio parlando di Fetermuda dal vetrinista che è una figura importante perché deve andare ad aggiornare le vetrine continuamente oppure parlare dell'inglese commerciale. L'inglese commerciale noi l'abbiamo sperimentato da due anni a questa parte quasi anticipando quello che era l'aspetto turistico che stava arrivando su Taranto per quanto riguarda le navi da crociera. Quindi siamo riusciti a in maniera trasversale ad arrivare a quelle che erano le esigenze del settore in maniera tale da poter essere presenti e propositivi. Poi passeremo con il visual merchandising che sono elementi importanti a livello tecnologico perché sempre più attuali. ultimamente c'è stato proposto sempre da Fetermuda anche degli ulteriori corsi per l'office. L'office significa approfondire temi Word, Excel, tutte quelle che sono le materie un po' più tecniche di chi deve magari stare vicino al computer e deve redigere determinate pagine o quant'altro che possa interessare alla stessa azienda. Questo mi preme poter dire che Taranto nella compagine Puglia quindi compagine regionale praticamente sono solo due gli enti bilaterali che oggi hanno modo di poter operare sulla provincia. Perché? Perché abbiamo lavorato bene negli ultimi anni tanto da poter stare sui requisiti nazionali che obbliga o niente altrimenti hai il problema che hai le fusioni. Allora oggi se tu riesci ad avere determinati parametri puoi andare avanti e puoi lavorare per il territorio altrimenti vai a chiudere. in termini proprio ha plasticamente reso la realtà. E allora ritorniamo dal presidente di Federmuda Taranto Mario Raffo. Una Federmuda Taranto molto impegnata nel marketing. Il marketing è il presente e il futuro. Varie le iniziative. Siete partiti come dire in quarta già iniziative dicevo a brevissimo termine anzi già in incipienti in corso in itinere. Parliamo della iniziativa shopping and breakfast e poi le iniziative le future che si che sono in programma anche in concomitanza di dei vari eventi dell'anno. Sì è vero abbiamo tra virgolette ciclone siete stati. Bisogna dire bisogna dire la verità ci tengo a precisare che con tutto il direttivo siamo arrivati in commercio al la prima settimana di giugno quindi considerando che il mese di agosto eh si è anche chiusi per motivi di insomma di 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 ferie delle varie aziende che piuttosto anche di confcommercio. Attualmente il tempo per il lavoro è stato veramente poco però abbiamo cercato di concretizzare eh nel maggior modo possibile questa questa grande eh idea della nuova federazione. Proprio combattivi come 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 immagine il video che è stato proiettato nella conferenza stampa dove eh si inneggia si fa riferimento a credere in se stessi e a sudare c'è l'immagine del pugile c'è l'immagine dell'atleta proprio far vedere che quando si vuole una cosa bisogna impegnarsi per raggiungere l'obiettivo. Siamo certi e convinti che il nostro lavoro possiamo solo ed esclusivamente farlo noi ecco perché tutti gli attori di questo sistema hanno deciso di scendere in campo perché convinti che qualcosa possiamo veramente fare. E andiamo alla iniziativa shopping e breakfast e come dire il lancio uno dei lanci delle attività della neonata federmuda. Di cosa si tratta? Iniziativa bellissima a secondo il nostro giudizio e ma soprattutto un'iniziativa che eh comprende la natura di questa federazione. L'iniziativa vedrà la luce il ventidue di settembre e terminerà il 6 ottobre. In collaborazione con FIPE, la federazione italiana pubblici esercizi e quindi consenso i bar del territorio di tutta Taranto e provincia eh i negozi associati Federmuda invitano i propri clienti a colazione. In che modo? Ogni acquisto per ogni acquisto minimo di 30 euro i negozi associati aderenti all'iniziativa rilasceranno un ticket che darà diritto al consumo di un caffè e cornetto al banco. Questo presso i naturalmente le attività FIPE aderenti all'iniziativa eh attività che saranno consultabili naturalmente sulla nostra pagina Facebook di Federmuda troveranno i nostri clienti l'elenco sia delle attività commerciali eh aderenti all'iniziativa che naturalmente i bar di riferimento di tutta la provincia. Ecco presidente altri eventi anche in prossimità del Natale? Eh eventi eh non vogliamo preannunciare anticipando però teniamo qualche anticipazione qualche anticipazione ci teniamo a dire che ogni mese ci sarà un'iniziativa commerciale per ottobre e novembre naturalmente che seguiranno quella di settembre. Il clou a Natale? Il clou naturalmente a Natale dove saremo attori eh su più fronti sia delle eh iniziative e degli eventi tra virgolette che porteranno le persone a condividere la nostra bellissima città e tutta la bellissima provincia ma naturalmente eh ci siamo resi attori di due iniziative sociali che poi invece presenteremo più in là di cui noi siamo veramente veramente ci teniamo tantissimo e siamo veramente a cuore. E allora abbiamo parlato di marketing, marketing vuol dire promuovere, promuovere anche il territorio e Mosca. Presidente, nei giorni scorsi c'è stata qui la presenza, l'incontro del di Michele Bolettieri che è il console eh onorario della Federazione Russa in Puglia, e quindi far sì che le nostre bellezze, le nostre risorse eh le nostre intuizioni eh commerciali entrino in un circuito internazionale attraverso uno scambio con la realtà russa. Sì, grazie Luigi. Abbiamo accolto volentieri quello che era stata questa richiesta d'incontro con questo diciamo questa nuova persona che eh essendo insediata da poco a Bari praticamente perché a Bari adesso c'è il consolato. Questo eh guarda un aspetto a 360 gradi perché perché eh ci sono delle novità sotto l'aspetto di eh possibili investitori che guardano la Puglia ma eh la cosa che a noi è fatto piacere eh questa richiesta d'incontro quindi abbiamo ricevuto qui in casa nostra in Confcommercio una persona con cui abbiamo fatto una chiacchierata amichevole, ci siamo scambiati delle opinioni proprio in virtù di quello che potrebbero essere degli aspetti di interesse comune futuro. Dandoci un appuntamento un po' più avanti per poter capire quelli che potranno essere anche eventuali investitori che potrebbero arrivare sul nostro territorio guardando non solo l'idea dell'industria che è un'idea che ormai se vi permettete eh non dà più niente al territorio ma guardare al turismo. Il turismo che potrebbe essere una fonte incredibile e che potrebbe far emergere il nostro territorio in maniera diversa. Ci avviamo verso la conclusione di questa chiacchierata. Presidente un tema che sta a cuore a tutti un tema che è da affrontare il tema dei saldi. Il tema dei saldi come dicevamo è un tema importante, un tema che ci vede al termine già di una campagna primavera-estate ma che già ci incontra con quelle che saranno le problematiche delle prossime stagioni quindi dell'autunno-inverno 2019. È un tema caldo, si può dire Luigi che è un tema caldo, siamo ancora in estate. La nostra federazione si è fatto portavoce della possibilità di ragionare su quelle che sono le regolamentazioni. Proprio un tema dei saldi. Abbiamo chiesto un incontro in regione con i nostri, tra virgolette, colleghi delle altre province affinché si possa aprire un tavolo tecnico e cercare di raggiungere un accordo per gestire nel miglior modo possibile questo tema. Naturalmente è una filosofia che viene dal confronto con tutti i colleghi del territorio, di tutte le province e che vogliamo fortemente portare avanti. Una battaglia seppur difficile però ci vogliamo provare. E allora, Presidente, come contattare Federmuda? Indichiamo i contatti con Federmuda. Una realtà neonata, tanti vedendo questa trasmissione in televisione o anche attraverso i social sicuramente vorranno sapere come interfacciarsi con voi. Premesso che noi siamo un figlio, tra virgolette, una figlia, la nostra federazione è una figlia di Confcommercio. Una gemmazione di Confcommercio quindi sicuramente tutti i contatti di Confcommercio. Però su questo nostro nuovo percorso abbiamo fatto un'upgrade anche su questo e abbiamo cercato di ammodernare anche un po' il sistema di comunicazione. Abbiamo aperto una pagina Facebook che si chiama Federmuda Taranto su cui si può visitare e trovare informazioni su tutte le iniziative e gli eventi della nostra federazione. Abbiamo anche un indirizzo email che i clienti e i soci naturalmente possono chiedere informazioni in merito che è federmuda.confcommercio.it. In più, una grande novità, abbiamo un numero di telefono e una linea WhatsApp dedicata di Federmuda. Queste indicazioni naturalmente sono sempre consultabili dalla nostra pagina Facebook, lo ricordo, non voglio sembrare ripetitivo, la nostra pagina Facebook è Federmuda Taranto, anzi invito tutti gli amici e i clienti e i colleghi a mettere il like sulla nostra pagina per rimanere informati su tutto quello che sarà il programma dell'autunno-inverno 2018-2019 e quello che naturalmente seguirà poi nella prossima primavera. E allora per concludere Presidente Mosca, una iniziativa, anzi le varie iniziative di Federmuda all'interno della grande famiglia di Confcommercio per creare un rapporto diretto con il cliente per una umanizzazione di questo rapporto. Sì, io non posso che esprimere un applauso con Mario perché in effetti ci si sta muovendo in maniera nuova un modo come dire non solo di approcciare il cliente ma più che altro per avere quel contatto con la città o con la provincia perché non dimentichiamo che Federmuda è un'organizzazione che riesce a essere presente non solo in città ma su tutta la provincia di Taranto ed è per questo che ho colto con grande piacere il gruppo dove con quasi 30 consiglieri sono riusciti a mettere su in piedi riprendendo quello che era una categoria che si era un attimino spenta ed è importante che queste operazioni si potranno domani riuscire a portare anche su altre categorie perché oggi essere o condividere meglio dire dei percorsi in maniera comuni si riesce a rafforzare ogni categoria per diciamo quello che si può portare nel miglior modo sul territorio. Bene e allora Federmuda è una realtà che fa crescere il territorio una realtà che mette in moto l'economia e che consentitemelo risveglia il nostro orgoglio di essere tarantini. La molle Tarentum deve essere solo così un antico brocardo latino che invece grazie al cielo si sostituisce attraverso queste iniziative con una energia con un impegno con una voglia di di metterci in moto e di mettere in moto le intelligenze tarantine i tanti uomini di buona volontà che ci sono sul territorio. Bene allora ringraziamo Mario Raffo presidente di Federmuda Taranto ringraziamo il dottor Alberto Mosca vice presidente esecutivo di confcommercio Taranto con delega al commercio nonché presidente dell'ente bilaterale del terziario e noi come organo di informazione come media saremo vicini alle varie iniziative di Federmuda Taranto lo ripeto noi amiamo questo territorio e vogliamo collaborare con chi fa tanto con sacrificio con abnegazione per portare in alto la nostra città e la nostra provincia Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!